Ho rivisto il finale di Mare Fuori 1 e di Mare Fuori 3, quindi in questo video faremo un attimo il punto della situazione per capire cosa ci aspetta nei prossimi episodi. Ciao, sono Valerio Novara. In questo video faremo un attimo il punto della situazione anche rifacendoci a un'intervista che ha pubblicato fanpage.it in cui il regista della terza stagione di Mare Fuori, Ivan Silvestrini, racconta e spiega ai fan che cosa è passato inosservato nel finale di Mare Fuori 3. Lui ha parlato di un dettaglio che molti sembrano aver ignorato e mi rifarò un attimo al finale della prima stagione di Mare Fuori di cui si è parlato tantissimo e che riguardano le teorie sulla possibile sopravvivenza di Ciro Ricci. Quindi faremo un attimo uno spaccato dell'intervista pubblicata da fanpage, di quello che il regista ha pubblicato su Instagram e poi andremo un attimo a parlare del finale di Mare Fuori 1. L'ho riguardato, volevo un attimo capire bene che cosa si vede, che cosa no, fin dove hanno raccontato perché poi ci sono alcune cose che invece ci erano sfuggite la prima volta che l'avevamo vista e in tanti si chiedono ma Ciro Ricci è vivo o non è vivo? Per farlo dobbiamo un attimo tornare alla terza stagione, alla fine della terza stagione dove è arrivata la serie. Insomma, fanpage ha pubblicato alcune storie Instagram in cui il regista Ivan Silvestrini rispondeva alle domande dei fan. La maggior parte delle domande riguardavano che dobbiamo aspettarci dalla quarta stagione, si può assistere sul set se veniamo a vedere le riprese? Lui ha detto chiaramente, ha detto abbiate pietà, in teoria no, non si può assistere, il pubblico non può assistere, anche perché si rischierebbero tanti spoiler, quindi si rischierebbe di far sapere in anticipo quello che succederà per una delle serie tv più guardate, visualizzate in streaming, più chiacchierate di quest'anno. E diciamo subito che le riprese inizieranno il 22 maggio, in un video precedente avevo fatto il punto della situazione sulla quarta stagione di Marefuori, di chi tornerà e chi non tornerà, andatevelo a vedere, se volete restare aggiornati su quello che succederà, sulle anticipazioni che ci sono, che riguardano la quarta stagione, ma a un certo punto un utente ha chiesto a Ivan Silvestrini, ma è vero che nell'ultima scena, nell'ultima puntata di Marefuori, quindi di Marefuori 3, c'è una quarta persona? E il regista ha detto, non vi posso dire niente, ma c'è un indizio che sembra che molti abbiano sottovalutato e che è la direzione della luce. La luce ha sempre una direzione, si è limitato a dire. Ritorniamo un attimo al finale di Marefuori 3. Nel finale si vedono Carmine Di Salvo e Rosaricci che si vedono fuori dall'IPM di Napoli, fuori dal carcere, in segreto, per un permesso, quindi si vedono in segreto in questo sotterraneo, se vogliamo, e si baciano, quindi comunque sia la loro storia viene ancor più approfondita e l'amore che nasce va in contrasto con quelle che erano le diatribe tra le loro due famiglie, i Di Salvo e i Ricci. A un certo punto arriva in questo sotterraneo il papà di Rosa, Don Salvatore Ricci, e strae una pistola. Nell'ultimissima scena, nell'ultimissimo fotogramma, noi udiamo uno sparo e la telecamera che si sposta e non ci fa vedere chi è morto, chi è stato ferito, chi ha sparato. Ci sono tantissime teorie che stanno girando, ma una fra tutte riguardava la possibile comparsa di una quarta persona sulla scena che poteva essere Ciro Ricci. Voi direte, ma Ciro ne è morto? C'era una foto, era spuntata una foto che lo stesso attore che interpreta Ciro, Giacomo Giorgio, aveva detto io non ne so niente, non so chi l'abbia fatta uscire. In questa foto si vede l'attore Giacomo Giorgio con una pistola in mano che scende delle scale che assomiglialo al sotterraneo che vediamo proprio nell'ultima scena dell'ultima stagione di Marefuori. La teoria che va per la maggiore è che Ciro Ricci possa essere tornato dopo una latitanza e che possa lui aver sparato ad uno degli altri tre che erano sulla scena. Questa foto ha girato parecchio, dovevano farla vedere nei famosi due minuti alternativi che sarebbero dovuti andare in onda sulla Rai quando la serie è stata mandata in onda il mercoledì, la terza stagione, ma in realtà la Rai non ha cambiato il finale, quindi il finale è quello che vediamo su Rai Play, che arriverà anche su Netflix in estate, arriverà la terza stagione a luglio e in cui non sappiamo chi ha sparato e chi è eventualmente morto. Per quanto riguarda la direzione della luce, le dichiarazioni del regista ci lasciano un po' così, anche perché significa che qualcosa si può evincere dal finale della terza stagione. Ma se fosse che Ciro Ricci è vivo, e secondo me non è così impensabile come cosa, anche perché vorrei tornare un attimo al finale della prima stagione di Marefuori, che ho visto e ho rivisto poco fa, e facciamo un attimo un riepilogo di come è morto Ciro Ricci nella prima stagione di Marefuori. Si vede che nell'IPM lo stesso Ciro scatena una rivolta, vuole vendicarsi nei confronti di Filippo o Ghiattillo e entrano in questa dependence, diciamo, che sta all'esterno del piazzale dell'IPM e quindi abbiamo Ciro Ricci con un coltello in mano che vuole uccidere Filippo o Ghiattillo, nella stessa dependence si erano nascosti sia Filippo che Carmine. Quindi c'è una colluttazione, a un certo punto interviene Carmine, comincia a lottare con Ciro e Ciro è pazzo, è preso dalla pazzia, vuole uccidere entrambi a tutti i costi, e a un certo punto Filippo con una lama trafigge alle spalle Ciro Ricci colpendolo all'altezza dei Reni. Quindi il colpo che viene dato a Ciro Ricci è all'altezza dei Reni, non un colpo mortale se vogliamo, abbiamo visto altri personaggi che non sono morti per colpi molto più gravi, quindi già questa cosa mi aveva lasciato un po' perplesso, ho detto come per una coltellata ai Reni si può morire, sicuramente si può morire, l'ultima scena vede il comandante che entra in questo ufficio, in questa dependence e tra le braccia ha Ciro Ricci che gli confessa, diregli a mio padre che non ho avuto paura e poi invece si lascia andare a un comandante, ho paura di morire. Non vediamo poi Ciro Ricci, ma lo vediamo coperto da un lenzuolo bianco quando viene fatto uscire il corpo da questo ufficio, da questi uffici, e il comandante che dice avete visto, a tutti gli altri avete visto quello che è successo, avete visto cosa avete combinato, e noi vediamo solo che viene caricato dalla barella all'ambulanza il corpo di Ciro, quello che a tutti gli effetti sembra essere il corpo di Ciro. Poi ci sono state tutte le vicissitudini nella seconda, nella terza stagione, chi voleva vendicare la morte di Ciro, c'è stata questa cosa con tutti i suoi scagnozzi che volevano vendicare la morte di Ciro. Due elementi però mi fanno pensare che Ciro possa essere ancora vivo, lo abbiamo visto in tanti flashback, tra l'altro l'attore Giacomo Giorgio ha confermato che ci sarà anche nella quarta stagione e forse non solo nei flashback. Anche perché è un personaggio che è molto amato, paradossalmente è tra i più amati e piace tantissimo, e lo vediamo anche dai social, dai canali social di Giacomo Giorgio. Uno degli elementi che mi spingono a credere che Ciro non sia morto è che, uno, non fanno nessun funerale. Mi scuso con tutti perché in un video precedente avevo detto che mi aveva lasciato perplesso la morte di Ciro, che avevano fatto il funerale, però in realtà no, ho rivisto bene l'ultima puntata di Marefuori 1 e la prima di Marefuori 2, ma anche le prime insomma della seconda stagione, non hanno fatto il funerale. Mentre in altre occasioni abbiamo visto subito il funerale con insomma i parenti di chi muore all'interno del DPM. Stavolta non c'è stato nessun funerale. Perché? E poi, mi ripeto, il colpo a Irene, a Ciro, non mi convince per una morte che mi ha lasciato molto perplesso. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se siete d'accordo con la teoria che va per la maggiore, secondo la quale Ciro possa essere scappato o aiutato a scappare, abbia finto la sua morte per essere latitante negli anni in cui poi si sono svolte la seconda stagione e la terza stagione di Marefuori, per poi tornare a quanto pare nel finale della terza stagione e cercheremo di capire nella quarta stagione se queste teorie sono azzeccate, se la maggior parte dei fan che pensa che Ciro Ricci sia vivo ci abbiano azzeccato. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e mettete mi piace a questo video, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi aggiornamenti che arriveranno su Marefuori ma anche su tutte le altre serie TV del momento. Seguiteci su Facebook e Instagram, c'è che azione mi raccomando dove pubblichiamo news ogni giorno e io vi do appuntamento al prossimo video.